No ragazzi guardate dentro il vulcano ci sono marco lion ferre e marci che sono morti no Burroni benvenuti nella serie del vulcano sul canale sempre insieme a marcolino che in facecam finalmente è tornato Ragazzi prima di continuare ovviamente come al solito vi ricordo di arrivare a 2.000 mi piace quindi cliccate sotto il bottoncino del mi piace Iscrivervi cliccando il tasto iscriviti rosso qua sotto e saluto anche l'ultimo che ha messo mi piaccia le mie foto di insieme che è Zika stoia e veschi grande bomber fatelo anche voi iscrivetevi sotto in sezione eccetera eccetera oggi ragazzi siccome la settimana scorsa Vi ho chiesto quale youtuber volete che prendiamo e al quale facciamo la casa abbiamo deciso di prendere sia fere che lion e qualsiasi Sono le loro statue ciao stato di fere e ciao statua di lion come sta non mi devi guardare ok io farò lion e marci e marco farà fere e Marco oggi appuntato i punti in cui le faremo vedete i punti gialli sono le due case che farò io queste qua invece Marco le farà dall'altra parte e dove c'è la costruzione qua ragazzi ci sarà il vulcano che Crescerà qua e vedremo quale delle case resisterà di più quale delle delle quattro case resisterà di più secondo voi Quale resisterà scrivetemelo sotto nei commenti marco io vado subito a creare La casa ma inizio dalla casa di marci inizio ok Inizio dalla casa di marci. Io credo di partire da quella di fere Così dopo tu fai lion e faccio marco. Va bene io ti dico solo una cosa una cosa importantissima che mi hanno chiesto i fan Mi hanno detto marci e marco fate delle case molto più piccole ok quindi marco sai cosa farò oggi? Farò un 5 per 5 come caso. E io faccio un 3 per 3 va bene? No dai facciamo la sfida No dai è così piccola no fallo un po' più grande. Aspetta faccio un 3 per 3 e un 5 per 5 faccio la differenza Va bene dai io per me faccio il 5 per 5 assolutamente però c'è 5 per 5 che poi diventa un 7 per 7 dico il 5 è quello dentro ok Vediamo un po cosa voglio fare la voglio fare molto classica col legno la voglio fare la mia casetta oggi per una volta La voglio fare subito così la voglio fare come se fosse una baita di montagna c'è una cosa del genere voglio farla facciamo 1 2 3 e 4 di altezza perfetto Quindi qua ci sarà il nostro tettuccio tu il tetto come lo fai io voglio fare un tetto spiovente con le stairs di legno Ok no va bene allora questo lo facciamo sicuramente diverso perché io usero i mattoni per fare questa cosa E quindi prendiamo le scale di mattoni allora io poi dopo devo fare lion voglio cercare di farlo il più vicino possibile a come potrebbe essere una sua eventuale casa Sarà molto difficile da fare perché comunque non lo so come potrebbe venire fuori la settimana scorsa avete apprezzato molto la casa di stepney perché l'ho fatta molto in stile rosso nero Che è lui ti fa milan la sua casa è rosso nera quindi ci sta ragazzi sono stati in tema vediamo se anche questa volta rimarrò in tema Ma non sarà facile sinceramente urca marco guarda guarda il giallo cosa si sta formando il vulcano si sta formando che Ma scusami e gli youtuber rimangono in plena c'è dentro dentro il vulcano Se li sta portando dentro il vulcano Vabbè l'unica cosa è che spero che la mia casa non faccia nessuna fine della scorsa volta se ti ricordi Non è che abbiano fatto proprio una bellissima fine Io ho avuto un po' sfortuna ragazzi non so se io questo non ve l'ho mai detto ma noi quando finiamo i video lasciamo il server aperto per tipo una settimana intera per vedere quello che succede E fidatevi che non è stato un bel vedere perché le mie case erano ancora intere quelle di marco erano andate tutte a farsi friggere sinceramente Un po' sinceramente mi è dispiaciuto devo essere sincero No perché alla fine sono fatta apposta di essere distrutte dai Ho fatto quella di fere che è una piccola casa di sopravvivenza perché l'altra volta quella di two player l'ho fatta Cioè quella di step ho fatta insieme a fere Esatto Invece questa qui la sto facendo da sola appunto per non riproporre la stessa uguale Esatto Però la mia di dopo avevo in mente di fare soltanto tipo la cucina perché la cucina è una cosa che non sto più facendo durante le case Ah vuoi fare solo unicamente la cucina? E' interessante come cosa Esatto in un 5x5 voglio farla Guarda che è veramente interessante come cosa Allora Marco io ho appena finito la casetta casuosa Vuoi per caso venire a vederla? Arrivo ma tutto è mattoni Aspettate fammi mettere la porta Buongiorno permesso Ci dobbiamo mettere la porta e ci metto questo qua pure Guarda Boom Guarda Ah questo ok Puoi entrare Buongiorno Ok Ah ha fatto sotto lei come aveva detto Bagnetto sotto C'è tutto nella mia casa Nella casa di Marci c'è tutto Ok C'è anche troppo spazio Esatto Io adesso vado a vedere la sua Signore Ah ma ha una posizione enorme Ma dai Marco Marco guarda Guarda che si sta creando No vabbè Allora la mia casa probabilmente riesco No rimane viva la mia Guarda che c'è il villaggio che sta salendo Guarda di quanto poco Guarda No vabbè Oh la mia casa No la mia casa è incredibile Vieni a vedere la mia Guarda di quanto Eh sì sì l'ho vista l'ho vista È uguale Di un blocco Di un blocco la mia La voglio fare più colorata però La faccio marrone perché è il colore della skin di Lion E la faccio davvero 5x5 No in realtà la faccio sempre come l'altra dentro 5x5 Oh sì 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 4x5 5x5 Tu invece come hai intenzione di fare la casa? È che io non sono tanto abituato a avere tutto questo spazio a disposizione Quindi la mia cucina sarà gigantesca in confronto all'altra Ah la fai grossa Eh sì da 5x5 per me è gigantesca No 5x5 è dentro È 7x7 Oh davvero? Eh sì è 7x7 totale Allora si diventa ricchi con tutto questo spazio Cioè il dentro deve essere 5x5 Sì 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 2, 3, 4, 5 Ma sono un contatore D'altro punto è arrivato a 5 Guarda che quel vulcano lì mi fa una paura che non c'è idea guarda Allora marcolino io ho creato la forma della casa che deciderò che sia per Lion Guarda è un po' una casa a torre Sì ma sai hai presente quelle case greche? Non lo so perché mi è venuta a fare questa casa stile un po' greco tutta bianca Però eh ti devo dirti la verità è molto carina è davvero molto carina Allora Marco dalla regia mi dice che il vulcano è purtroppo è in anticipo e ha già iniziato a deruttare Questa cosa qua non mi piace adesso devo togliere addirittura le nuvole Così almeno cerchiamo di capire se effettivamente No ragazzi sta scendendo la lava e sta già Te l'ho detto Ok questo potrebbe essere un piccolo problema perché qua non ho finito ancora niente non so te Io ho finito quasi la mia cucina è composta È vero che tu hai fatto solo la cucina mannaggia No ma aspetta la lava sta colando? Sì È la mia casa Ah no è vero Però non sta Sì eh no si sta No non ci credo l'acqua me la proteggerà Dici? Mi è uscita l'acqua dalla montagna No allora è la città Se vieni qua per favore tipati a volo No dopo 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 fammi finire qua perché altrimenti non ci finisco più qua Non finisco davvero più No non lo voglio vedere In realtà sì dai arrivo Mettiti nella posizione giusta che mi tipo Eh sono tipati Allora tipi de mark Vediamo No non ci credo Perché guarda la lava sta colando ma qua c'è un'acqua che è uscita da sto buco Non so da dove arrivi E cosa succederà secondo te? Non lo so però ti dico secondo me potrebbe essere che diventi No secondo me Sì secondo me so provare la lava Ma io forse non sento i suoni Oh ancora ma ci guarda quanto vicino Oddio guarda quanto è vicino Oh mio Dio Aia sta targettando la tua zona Io non voglio dire nulla Io lo so già che questa casa qui non resisterà più di tanto Lo so già ragazzi mi sono già messo il cuore in pace probabilmente No la lava va sopra l'acqua È finita Sì te l'ho detto Te l'ho detto Te l'ho detto No Eh per forza Ho già perso una casa Mi era ovvio Era ovvio che la tua casa andava E beh la mia guarda che questa qui è qua vicino ad andarsene Comunque sei tranquillo Vedremo vedremo La prova del 9 è vedere quale delle due case resiste per i prossimi 5 minuti Ok Delle 4 case in realtà La mia già quella lì è stata già targettata un pelo La tua qui Eh la tua qui Eh Devo mettere solo le NPC Marco dentro Se vuoi venire a vedere la mia intanto Ah no è vero Devo mettere anche gli NPC Devo mettere anche gli NPC Guarda Aspetta che li vado a mettere subito Purtroppo la tua di lava è andata Quella lì è andata Peccato Siamo una casa a zero per ora Eh per adesso si No ragazzi guardate Dentro il vulcano Ci sono Marco Lion Fere E Marci che sono morti No Marci un'altra mettera vicina alla tua vecchia C'è quella di Lion dovrebbe essere Guardate qui ragazzi Che cosa sta succedendo La mia sta salvando tutto Eh mi sa che oggi Marco A me andrà male però Non ne sono così sicuro Ma secondo me andrà male Oh mio dio Questa era vicinissima alla mia Mamma mia A quale Oddio vero Marco si sta formando un terremoto Guarda Guarda qui 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 Eh non perde nessuno dei due Però per fortuna No Però veramente No 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 Non perde nessuno dei due Però guarda che la mia casetta qua È veramente in difficoltà No Marco guarda Un terremoto Che mi spacca in due la montagna No guarda qui Marco Eh la mia casa Di Lion è andata No Davvero Oddio 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 vieni Non ci credo Eh buongiorno Si ha praticamente salvata Eh questa è molto a fortuna C'è ok qualcosa è andato via Ma tutte le attrezzature dentro Non sono andate via Oh cavolo Cosa ho visto La tua casa sta andando a farsi friggere Quasi quasi No 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 Perché l'ha lisciato di più o meno una decina di blocchi Tutte Oh la casa di Marci lì è imperterita Non l'ha beccata nessuna meteora Nessun vulcano Niente Invece quella di Lion Eh quella di Lion Eh Vieni a vedere l'altra casa di Fere Cosa ha combinato il terremoto L'ha distrutta? No L'ha proprio passata davanti È come quella qui di Lion Eh ma non le ha tolto neanche un blocco No vabbè Pazzesco Ragazzi mi sa che qua abbiamo un vincitore Eh che per adesso mi sembra che sia Marco Perché effettivamente la mia di Lion Un pochino si è distrutta E questo purtroppo È da dire Non si sono tolti nessun oggetto realmente Perché si sono tolte solo delle cose strutturali Però vedete il computer è tutto rimasto E anche qua è rimasto tutto Quindi Marco Io ti direi Uh un'altra meteora guarda Ah Pensavo venisse verso di me E invece no Tranquillo Ragazzi È crashato il server Chissà che cosa è successo Io sono veramente molto curioso di capire Cosa è successo No No ragazzi Si è distrutta la casa di Marco Terremoto più meteora Terremoto più No ragazzi No ragazzi noi siamo crashati E siamo rientrati così Cioè guardate Sta ancora generando il terreno No vabbè Ma cosa è successo qua La combo è stata Oddio No vabbè E qua invece No vai Marco Questa casa qui comunque è illegale Ma qua è mostruosa Deve essere quella che dovevamo morire per prima Quattro terremoti Si è tenuta perfetta E lì in centro E lì in centro L'isoletta si è fatta Invece la mia casa di Lion è ancora lì a posto Cioè siamo insomma E diciamo 1,75 lì E la mia di Marce Non è stata proprio toccata Questa qui Questa qui è una combo clamorosa E ragazzi Ed è con questo Che concludiamo il video Direi che è Un semi pareggio Perché comunque La casa di Marco È stata proprio tranciata in due Però diciamo che anche la mia di Lion Ha avuto dei problemi Quindi pareggio Fateci sapere sotto nei commenti Se vi è piaciuto questa tipologia di video Lasciate un like E un commento E iscrivetevi se siete nuovi Ci vediamo nel prossimo video Da Marce Tutto Ciao Ciao